Bimbo chiama bimbo nasce nel 1998 in Croazia con un rapporto di collaborazione basato sull'ospitalità estiva delle famiglie bresciane di piccoli studenti e poi evolutosi in altri progetti di sostegno a favore loro e delle loro famiglie in una realtà disagiata. Nella zona nord di Brescia Bimbo ha poi aggiunto i servizi del guardaroba, dei vestiti e del magazzino alimentare dove possono fornirsi le famiglie bisognose, seguite dal progetto La Porta Accanto. E ancora il centro 03 è nato dalla volontà di dedicare uno spazio di socializzazione ai piccoli nei primi anni di vita e ai loro genitori. Durante l'inverno attivo il sostegno allo studio per quei ragazzi in difficoltà che non possono trovare aiuto nei loro genitori. D'estate attivo il babysitting emergenza per quei genitori e lavoratori che non possono contare sulla rete familiare per accudire i loro figli. I giovani volontari invece assistono i disabili dell'associazione Amici del Mare durante le vacanze a Pinarella di Cervia. Questo è quanto portato avanti nei suoi primi 22 anni di vita da Bimbo chiama bimbo.